Salve a tutti ragazzi siamo qui nella Ultimate in compagnia di Woodes e allora l'ultima volta abbiamo fatto questa fornaciona e qualche macchinario no non me lo ricordo sinceramente abbiamo fatto anche il futuro dell'industria si ragazzi questo è il futuro dell'industria il maceratore a manovella il nostro fantastico maceratore a manovella questo sarà il simbolo di questa partita si ma ci faremo tipo una dora e sopra ci lo metteremo si faremo un qualcosa in onore di questo quindi oggi però invece avevamo oggi però invece lo dette tutte le preposizioni basse non devo parlare perché io mi ostino a parlare quando non devo oggi faremo la fornace elettrica perché non facciamo invece una valvola dove ci mettiamo tutto questo un po' prodotto ci sto ci sto eh sì abbiamo un creeper davanti casa ma non davanti casa proprio dietro la porta no 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 oh my god apri la porta vediamo se c'è le frecce c'è la c'è la 9 frecce vai apri la porta Ora ho ucciso Due frecce Senti sto ridando le frecce Ce ne stanno due buttate qua Sì Stavo pensando a qualcosa ma non mi sono scordato Completamente Questo ragazzi è l'episodio 6 se non sbaglio E il 5 lo trovate sul canale di Woodes Che sarà in descrizione Ok Mi sento lasciato Facciamo così Tu fai una valvola Valve si chiama mi sembra Ma per fare il tank quello grosso? Sì facciamo quello con la valvola Tanto non ci funziona niente Aspetta vediamo un po' se sono fattibili con i blocchi Sono un po' costosi No col ferro costano un bel po' A me se non sbaglio C'ho un secchio E poi l'aeron bars Ma sono facile Ma di quali tank stai parlando? Com'è che si chiama? Valve Iron tank valve? No no Sì è quello blu Si chiama Ah valve basta Ah e che cos'è? E' un contenitore Tu lo metti e poi ci fai un cubo intorno Con materiale da costruzione E poi ci fai le facciate di vetro E questo qua contiene molto più materiale rispetto alla fornare No questo non lo conoscevo sinceramente Io ho sempre usato i tank quelli di ferro No sono molto più costosi Qua questi qua li puoi fare a grande quanti ti pare Si quelli costano effettivamente i tank di ferro Oh 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 Oddio le sabbie morti Le sabbie Sto vicino alla lava Sto vicino alla lava e mi lagga Non va bene Oh porca Dimmi che non viene di qua Brava Io vado a prendere un po' di cactus Per fare i fili Concordo Ancora lagga Porca miseria Anche a me sto laggando Quanto un po' Beh te Tu è pure normale Tant'è non tra un deserto Ma chi hai che uccide un maiali Se tu Oddio Ok Non si chiede a più la minua Tant'è non sapere No Grazie Oh Ma what a fuck Ma what a fuck Eh F Eh It mare F Oh No No SYou No No So No, sul serio? Sì Dove? Dico come fa Le coordinate Aspetta, forse ci riesco a rompermi Se mi dici le coordinate almeno recuperiamo gli oggetti L'avevo quasi rotta, porca miseria Ma sei morto? Sì Ok, vedo il tuo nome Adesso ti faccio rinascere Prima fammi vedere se riesco a recuperare i tuoi Speriamo che non stanno sotto terra Vabbè, tanto si possono rompere con la pala Ma dove cazzo è questa morta? Ecco qui, mi sa C'era un maiale vicino? Non lo so, però ci stanno questi maiali Maiali Ehm, un problema perché poi ci rispondono dentro Ehm, infatti è quello che sto cercando Ah sì, ci stanno i tuoi oggetti se non sbaglio Che fai, sconda tutto Adesso dammi due secondi che ti faccio risorgere È una bastardata però, porca miseria Sì, sì Almeno adesso sappiamo però che si può rompere Perché già stavo a metà dentro Sì, si può rompere, però ci metti un bel po' Vabbè, il tempo che vai sotto Solo se cadi di lato ce la fai Perché anche se la rompi quando stai al centro è inutile Eh, stavo al centro io Non ce l'avresti fatta uscire, credo Ma non è questo, lo cazzo sta Vabbè, ti faccio rinascere Allora Così ricrego È vero, come faccio? Ma mettiti una pala a portata di mano Così se mi aiuti a rompere il blocco Eh, ci posso provare, allora Infatti avevo una pala in diamante Sì, così, tanto per fare qualcosa Ad avercelo in diamante Eh già, allora Questo è NB, T, edit Da, io E guarda, guarda che merda Ci metto sempre mezz'ora ad aprire Questo programma sul mio computer Non ho capito perché Io intanto guardo Top Gear Ma tu lo sai chi è Stig? Che so Tu lo vedi Top Gear? Sì, sì, l'ho visto spesso Eh, lo sai chi è Stig? Quel pilota, no? Sì, lo sai chi è? No Come si chiama quel pilota della Ferrari? Che adesso sta alla Mercedes Non lo so Quello che era bravo con le viste per Spagnava ti aspetta Eh... Parti che è lo Eh, non ne ho idea cosa Ok, adesso prova a rientrare Ok Si non è già barricare Eh, sto sotto... Ah, ecco l'anfancuro non era quella che stavo scavando Sto rompe, sto rompe tutto Sto arrivando Ma nemmeno sto morì Ah, bene Aspetta, metti in modo 1 Sei soffocato nel muro Ah, ho ripreso tutte le cose No, sei morto Secondo il mio gioco sono ancora in vita È vero Anche secondo il mio Perché non... Il server ha appena detto che sei soffocato Eh... Ma io c'ho pure un blocco di... Cosa C'ho un blocco di Buxendor alimentario Ma anch'io ti vedo ancora in gioco, infatti E' come sto tu Mettimi in modo 1 Aspetta, esco Ma che cosa è... La parca di serio Niente, vediamo un po' Vai, ecco, ecco, t'ho fatto il buco per uscire, dai Eh, ma io vedo... Sto come sto scoperto Eh, poi si... Non mi va tutto intorno Esatto, quello che sto facendo Eh, sono morto Ok, vabbè, come sei morto Sì, sono morto Ah, ti è arrivato adesso che sei morto Va bene E adesso, allora ti faccio risuscitare Intanto prima tolgo la... Merdosissima... Eh, sì, sì Sabbia? Ecco Steve Oddio, hanno fatto entrare Steve nello studio Tu per caso hai messo il timer? No Cazzo Lo metto ora? Sì, aggiungi, non lo so, tipo 5 minuti Vabbè, ma dai, ma mi tagliano tutto sto pezzo Tipo tutto il pezzo che io crepo Tanto Non è che facciamo molto Sì, vabbè, ma fa parte del gioco morire Comunque i miei amici sono degli infami Perché? Prende... Io so giocare a poker, ma tipo pochissimo, no? Ah, ah Prova di entrare Questa sera mi chiamano e mi chiedono Amici che a poker con noi però ha soldi Vabbè Sì, ho detto Sì, ho detto Vengo a regalare soldi a voi Perché non faccio tempo fare niente Ma non sei nella sabbia, non c'è più l'ho tolta praticamente tutto Ma io sto crepando, sono morto Ma che cazzo No, mettimi in modo uno e sfondo tutto Ma è realtà tutto quanto Sì, lo ho lavorato, l'ho tolta proprio tutta Non so, mettimi, preparami Non so Non so Riprovamo, allora Apriamo Comunque, attenti, ti vedevo sotto la senso Sotto la senso Sotto la sandstone Sotto la sandstone No Sotto le sabbie mobili Sì Come ci chiamano un parco a genere? Sand, 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 sand Si chiama Quicksand Quicksand Vai, riprova Vediamo un poco Improviamo Mono style Ecco, ecco, non ci sto, non ci sto Ah È notte, quindi corriamo Presaglio la tua roba Ok Mi sa che Due point, due point, due point, due point, due point è cazzo Laghi leggermente Ah, forse un poco, infatti non apro nemmeno, io ti divido ancora a mezzo alla terra Ah, vabbè Madonna, me stava una gonfia Oh, 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 so baggato su una cesta Dini mortacci Ok Metti giorno, metti giorno Eh, buon'idea Anzi, se non esco e dormi No, 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 ecco fatto, giorno Non importa, non importa, allora E' quando il mio Minecraft è notte Gimforte Ah, io ti vedo adesso, lo sto uscito al buco, penso tu Adesso gli sei teletrasportato Adesso non lagga, adesso non lagga È leggermente in ritardo Io ti sto buttando le cose in un angolino della casa Se mi fai delle trasportare Ok, adesso hai messo giorno Sì, da un po' sì Leggermente in ritardo Se esco rientro, se esco rientro Maggiorno un po' il mio Minecraft Non lo so No, almeno se è giorno, tu non mi fai niente, però No, no Niente, lo dici sera, mannaggia Ok Che cazzo, però, stilato No, no, no Adesso Ok Andiamo a andare a battere Oh, adesso funziona Eh, non me lo prende, però, aspetta un po' Appena non lagga, facciamo una cosa Perciò tu stai fermo Ma ce l'hai, l'hai prese le cose Non dobbiamo il Minecraft, no Che cazzo No, no, aspetta, e ora si stabilizza e non lagga Eh, speriamo si stabilizza Allora, io intanto finisco Tanto se sto qua nel chunk Dove sei anche tu, non dovrebbe cambiare niente Quindi Aggiusto un po' sta robaccia della lava, perché Dai, ti vedo ancora dentro casa, fermi No, io sono giù alla lava Eh, vieni sulla scalinata, dove c'è la torcia La messa sulla scalinata Perché? Tu vieni Arrivo un secondo La torta, secondo il tuo secondo serve Ok, mi ha preso tutto Sì, sei là, sei là Eh, adesso io dove stai a mettere i blocchi Se rompe la cobblestone Eh, perfetto, io più o meno Dove stai? Dove stai? Eh, sto qua a rompe la cobblestone adesso Prima no, ma ora sì In mezzo alla lava Ok, io metto poi c'è un po' di starabo Ok, non mi lado Eh Sì, sì Allora Vediamo un po' Facciamo la formace Ok, ti vedo Oh, bene adesso Io metto un'astercista Questo fatto No, sto registrato Ok E io vado alla ricerca del deserto Facciamo l'esplorazione Facciamo l'esplorazione Tento quella roba bastarda Certo, partito come il suo Sì, va in esplorazione Yeah Sono senza spazio Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ok me la troppo, me la troppo ti dà pure un casino d'esperienza questo è vero, oh porca miseria oddio che sto uccido io intanto sto così di allo 30, tu stai già a 30 che cosa sei a 30 io si 33 eh lo sto a 27 tra l'obre e coppa ma si? bene quanta c'è nella mamma mia di sta roba si quando si trovano sti filoni è però ne serve anche tanta eh perchè quando fai il fertilizzante va via come niente come le caramelle va via ma tipo tre stack ne ho presi una volta in un gruppo così sono tre stack io ce n'ho uno e mezzo io ce n'ho due e non lo so ma comunque è meglio succederlo solo io ma l'esplorazione da tu inizia a fare i graffi va bene con la valvola che c'è su quanto ce n'hai? eh due stack e quattro io ce n'ho due praticamente tre stack com'è che si usava sta roba? mi sembra con una cosa polverizzata oppure con la sabbia si se non sbaglio eh si con la sabbia e con l'ascio cosa? o con la sabbia o con l'ascio ok che mi sembra tanto una droga sinceramente non lasci che cazzo è pit si fa col pit sempre più rassicurante si ginforte il pit non si sa come si fa si così ti voglio cazzo vabbè oh ho trovato il gatto la lince ah si quelli che passi impossibile ammazzarli perchè corrono come dei dannati si io voglio oh oh gli alberi mi assalgono eccole un'altra di lince mamma mia questo di lince cammina allora la fornace no? che ci rifa quella fornace? eh facciamo la fornace elettrica no? ok ok chiudi di minima mappa schifosa l'avevo trovata in deserto porca miseria ecco la cosa bastarda allora vediamo elettrica spema spema oddio questa è pieno di stato abbiamo detto che facevamo la valvola lì la vulve come cazzo si chiama? valve valve ecco tra chi allora ci serve una merdata e questa roba qui blu e xycoridite 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 baffeeh redstone e dei brick and then facciamo sta roba stavo riandando in mezzo a quella merda bene ma mi laggata panico c'ho sette gatti avanti porca miseria mela mia mela mia vieni mela mela prendilo pelo allora mela sì con un bel pezzo di colcucco po' sette gatti per quanto ieri e non si trova un deserto visto sono un posto il buo fantastico cazzo maiali merda maiali niente deserto un buono ciumi metto un po' il deserto quando troverò un po' sarebbe il caso il deserto ci serve perché stanno pure quei fiori che ti danno un vero è vero da libri e iva che poi possiamo molti dico tipo 2 di cui cosa facciamo quando mi sta inizio e c'è anche non si carica ottimo che si può vivere allora ho trovato un fiumeo foto un fiumeo come questo troppo sotto la vecchio posto si meglio meglio porta a casa porta a casa 3 come bio albio poi con la merda quello coltivo canela zucco buona buona io ho trovato pure aggiungo posto questo è bello canister non mi troppo oggi sta pure l'albero di l'asci l'albero di l'asci c'è se lo diamo asci bene una volta fatti sti cazzo di cose che ci devo fare ste valve niente aspetta anzi io devo trovare sto cristo di deserto cerco da un altro lato vai vai ma io sto pure alla gamma e si aggiunga schifoso vai mettendo il mod 1 opla allora io vorrei iniziare la ricerca ma vorrei andarci ormai hai dimenticato uno slash si allora a parte tutto ora ora andrò alla ricerca della merda perduto la merda perduto attento a stare merda veramente io vado in un'altra direzione che non ci sarà un cazzo dalla parte che vado io non ci sarà assolutamente un cazzo vado di là madonna dei vulcani guarda guarda la lava guardalo guardalo guarda se mi mette incredibile guarda ma porca devo fare un salto nella lava non so se sono pronto a questo addio questa era un po' allata la freccina sono pronto ok se non mi mette incredibile sto nella un'altra si ce l'ho fatta lì lì mi fauglio quando lo sterzo quando vabbè io esco di entro per la millesima volta è come ci ha messo mi ci ha messo dopo tre anni però come ci ha messo è sempre meglio di niente ho trovato una voragine assurdamente gigante che è quella che abbiamo già controllato come cazzo arrivo dall'altro lato ci ha fatto anche la rima ma un'altra allora qua su oddio perchè ma non mi sto allagando panico non c'era soccaduto dopo tre anni mi ha dato il danno che merda non c'è posto sotto terra che non certo che sta allagando tanto stiamo una da una parte una da un'altra e adesso con un ruolo che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo mi cadrà nel vuoto spero di essere sta in una grotta in una grotta non so dove sto what the fuck what the fuck ok non so cosa sta ci tengo si forte mannaggia i server del cazzo sono stati privatamente ero io da casa migo migo amico e mo me ne torna anch'io allora ma è di qua buca ma porca puttuna guarda che bottanata guarda che bottanata e non me ne riesco più il primo dei due point bene significa che non lagga si 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 qui c'è un vulcano che potremmo bucare per controllare se c'è veramente quella cesta non c'è la cesta ci sono i minerali eh vabbè quello che è perchè è un vulcano di merda si fra mille anni mettici waypoint comunque fra mille anni cercherò di tornare a casa da bucare da bucare da bucare da bucare oh e tanto c'è ci stiamo ci vedete ci leviamo brutta la lava che c'ero è vero c'è un geodermalo eh ci mettiamo dentro una pompa c'è una pompa c'è una pompa anche quando troveremo il deserto io ho trovato l'ho trovato due ragni anche hanno trovato a me due ragni fammi il tp da te è un po' complicata la situazione fai tu il tp da me qua mamma ehm ehm oh uno shark io esco uh ti faccio il tp? no no sono uscito quando quando è giorno perchè di notte c'è lagga mi lagga proprio poi mob senza se c'è già messo lagga ok è giorno l'ho messo giorno ok ma io ho paura lo stesso ah pure io perchè stanno a giungle con gli zombie oddio cazzo cazzo lagga porca merda un tp un tp eh ho un creeper alle spalle mettete dentro un buco scritto sta a far casino della madonna il microfono telefono ma il mio ora ora non più ora non più ora pochissimo ma ora non più ehm scrivi tp slash tp woodass ho la sicuro lo so come ci va 18 ok parli lo scuro � ok attento 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 E io sto ancora nella giungla Cazzo, c'è un creeper che ti si sta avvicinando No, non ci riuscirò ad ucciderti Sì, ti ho salvato il culo Io sto ancora nella giungla Non secondi il server Io ti vedo con un cavo di bronzo in mano Eh, lo so Eri qui sul vulcano, ora ti sei disconnesso Ok, mi sono disconnesso Sì, sì, ti sei disconnesso Eh, riconnettiamoci Ce la farà Wudas Io non credo proprio Sì, sì Sono te Amen, forza Vedo che fermo fluttuante Che vedi? Vedo che flutti Fluttu Sei sul vulcano Sì, sono vicino a te, molto vicino a te Sono da dietro a te Eccolo il nostro deserto, cazzo Guarda che entrata E non riesco a prendere L'insibizionista di un deserto Guarda che roba Guarda che roba È proprio che guarda Ho due shard of Minium Ok, adesso siamo ancora a quattro Ma tu vedi mob su vulcano? Io no Io sì Non credo, c'era un ragno forse Il ragno Il ragno Almeno ci sto provando E sto bestemmiando mentalmente perché Perché è una cosa abbastanza complichetta Sono quasi fatta Ci sono quasi Sento di que... Ora capisco cosa provava quello che ha scalato l'Everest Non so che sia Non so che Ma era un gruppo irriani Non so che la storia No Prendere, siamo stati di prima scala l'Everest No, il K2 gesto di Che molto La montagna degli italiani Ma crediamo Oh, ci sono Sono sul deserto Prova voi fuori Quei ciori bastardi Oppure il mazzo Ma che Cristo l'hai trovato Non è un deserto Una montagna di sabbia Sì, in effetti Cioè, c'è sta solo la sabbia Sei in sosta di me Sì, sì, sì Che trovato? Sì, sì L'albero della nancroft Questo coserto È vero, lo vedo Oh, cazzo Qui c'è un salto da fare E se non c'è chi appunto Vado giù E vai giù Per 42 metri Rullo di tamburi VOLARE Madonna Dove sono atterrato? Oh, che fa Il rullo di tamburi Ho lavato lo schermo Nel computer Sì, c'è dell'acqua Io scendo con l'acqua Yes, yes Sono al tuo livello A me ancora lag Lagga ancora? Sì È il deserto del merda In effetti È un po' uggioso Ma ci sono quei fiori, vero? Sono in cazzo Forza Zali Zolaire A questi gradini Opla Dai, ma di qua c'è quel mondo strano Con tutti gli alberi supercoloreti E chiettelo qui Oh, trovo il cactus Si, il cactus Sto pensare Oh, il cactus ci serve Porta a casa, cazzo Eh, non riesco a prendere questo problema Ci serve per fare il waterproof pipe Non so Io faccio pure la coltivazione, cazzo Eh, sì, sì, per forza Se no non basterà mai Io vado alla ricerca di... Cerchi per tutti Io sono in cima, ora metto la distanza di rendering Mossimo, cazzo Madonna, estrema Forse ho esagerato Sono a 14 fps, cazzo Tu hai messo un point deserto? No Forse è il caso di farlo Eh, sì Deserto Anzi, sabbia, un deserto C'è montagna con la sabbia Ma tu, ficata C'è della sabbia volante Se io la tocco cadrà Quanto mi diverto Ho trovato pure l'olio L'olio C'è no, l'olio, il petrolio Ma tronna, io stavo su Ho trovato il petrolio, sono ricco Fantastico Buono, l'olio Ci servirà, primo o poi No, alate, ce ne servirà Sì La benzina, c'è stato E che ci fai con la benzina? Metti dentro al combustione del gelato Siete pronti a vedere la cazzota più grande del mondo, ragazzi? Io scavo Ehm, se c'è la cazzota più grande del mondo Ehm, se c'è la cazzota più grande del mondo Ehm, se c'è la cazzota più grande del mondo Ehm, se c'è la cazzota più grande del mondo Ma non mi guarda il culo Ehm, ma Merda Merda Ehm Ho trovato le api del deserto Bene Ma non ho trovato i fiori del deserto Male Mi ho salvato il culo Mi ho salvato il culo Mi ho salvato il culo Si viene tutto giù quanto ne dico E quanto ne dico Io mi tuffo Attenzione sta smettendo di laggare Ho smesso di laggare Perchè finissi alberi però Gli arvocelli di merda esetti Quattà Oh cazzo deserto Deserto non deserto Perché? Lo chiamo così come voglio Oddio una buca Deserto non deserto L'acqua trova un altro di quegli alberi Le canne dello zucchero ce l'abbiamo già Ne ho due Vabbè ci bastano per fare la cosa di fai Ok ti dico dobbiamo trovare un altro deserto Si che questo fa veramente cacare Ma come passaggio è bello però non c'è la roba che ci serve Si no questo sembra veramente una spiaggia un po' ingrandita Ma questa è una spiaggia C'è anche il mare vicino Oddio È vero è vero Chissà se seriamente questo è il bioma della spiaggia e non del deserto Il bioma della spiaggia ci mandano solo gli ombrelloni Ma esiste? Esiste? Si 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 esiste Ma gli f3 ci dovrebbe essere il nome del bioma È vero c'ha ragione Questo è? No questo è deserto Se no c'è beach quando sei sulla spiaggia Però no effettivamente non ci sono gli ombrelloni Tipo se io mi mettessi qui vi Oh cazzo Oh cazzo Io ora sono molto vicino all'acqua F3 Beach Sono sulla spiaggia in questo momento Comunque ci dobbiamo fare pure la canna da pesca E poi addomestico un po' di rinci Così che li per non so Ah quel pesce si fanno? Ma spettacolo No questa non è minecraft 1.5 Se no potevamo aguinzagliarle E portarcela presso E cacciare i creeper Ma che gli succede ai creeper quando incontrano una lince? Non lo so ma credo gli allontana Si eh sapevo anch'io che non gli piacevano Però non ho mai capito esattamente cosa succede Non mi devi trasportare a casa Oddio io sto per fare uno di quei casi Che stasera? Io non ho mai visto Frizzando minecraft come non mai Eh andiamo a casa andiamo a casa Ci abbiamo ultima di arrivare Si infatti adesso arrivo E sta sotto terra Ho trovato una palude Voglio vedere se trovo L'antro della strega Che cosa trovi? L'antro della strega La casetta della strega Oh che spettacolo Le api della palude M waypoint New waypoint Api della palude Mi senti? Sì ti sento Mi ero mutato un attimo E vado a andare Deve andare va bene Allora chiudiamo il video Yes Allora ragazzi per quest'altra Non abbiamo fatto più o meno un cazzo Cioè siamo andati in esplorazione Siamo fatto l'esplorazione E io per poco non finivo in un dongione E questa è anche una rima Quindi vi salutiamo Al prossimo episodio E ricordo sarà caricato Sul canale di Woodass Woodass Ciao a tutti Ciao Ciao